Dolce Domenico, Gabbana Stefano Sibio, Patrice Domenico, Gabbana Stefano Sibio, Patrice Domenico, responsabile delle atti di cui ho capoato. Le concesse a tutti gli imputati, gli azionari di Brinieri, che ritenute equivalenti all'unità per davanti, condanna. Dolce Domenico, Gabbana Stefano Sibio, Patrice Domenico, alla pena di annuno e mesi 8 di rifuso di ciascuno. Dolce Alfonso, Gabbana Stefano Sibio, Patrice Domenico, alla pena di annuno e mesi 8 di rifuso di ciascuno. oltre al pagamento delle scelte successuali. Condanna a presto di stessi, dipende accessoria di quella 111 del decreto di ciascuno. Non stiamo davanti. La cosa straordinaria. Abbiamo assolto perché il fatto non sussiste dalle dichiarazioni infedeli dei due stilisti. Il fatto non sussiste quando c'è già una causa di estinzione del reato, come nel nostro caso, che c'era la prescrizione, vuol dire addirittura che la prova è evidente della loro innocenza. Grazie. 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 Grazie.